Lei domani terrà un convegno sulla Dei Verbum. Qual è il messaggio per la Chiesa di oggi di questa Costituzione? Secondo la Costituzione la rivelazione non è rivelazione di certe verità, neanche certe verità su Dio. Dio rivela se stesso e Dio rivela il progetto di salvezza, il suo progetto di salvezza per il genere umano. E ricevere questa rivelazione nella fede significa entrare in un rapporto personale con Dio. Questa piccola fraternità di San Lorenzo che è nata negli anni Ottanta proprio all'interno della Chiesa locale. E credo che, chiamiamola, la nostra vocazione è stata proprio l'intuizione che nel momento in cui le nostre Chiese si vuotano, le nostre Chiese si sono allontanate dal Vangelo, cercare di vivere una presenza piccola, un seme del Vangelo, là dove questi segni non ci sono più. E vivere questo fascino di Dio, questa ricerca di Dio, aperta anche ai fratelli, con molta semplicità.